non lo devi rompere perché questo qui guarda la Emma ha portato i giochini adesso potete litigare meglio non lanciarla però è un nome particolare anche ce ne siano moltissime moltissime con questo nome si è un po svalutati infatti in realtà l'unica che conoscevo è una mia cognata in realtà quasi sessantenne quindi però era rara poi la cantante va bene per quello e poi si sono svalutati in realtà il suo nome completa Emma Flora però è lungo allora che bellissimo mi piace tantissimo quindi è un ceppo sicuramente nordico perché Flora ha molto nome padano nordico la nonna era va bene metà milanese e metà toscana non è che tutto vuoi mangiare quello lì vai a leggere il libretto guarda che faccia guardate qua questa bimba che faccia che fa e questo bimbo come è contento questo bimbo cosa fai lo vuoi smontare tu vuoi fare un meccanico vuoi fare il tuo da grande qui c'è